oooohh contenuto disattiviamo gli alert subito apparenteli jack alfa 54 fruiti una lobby proprio da c'è doccia per te alfa se fk era fk ora sta giocando fin da sotto sinistra avangool abbiamo un campione del mondo contro l'italia del cs il mio meta beh apparently jack lo conoscete sta quasi a 2300 porca troia chico fino a destra madonna a prendere il busto dietro porca miseria dove vai fruit dove andare dai grande jack anticipa grande 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 ci pensa il king a prendere gol ok è tirato fuori perché si è messo paura di me quello ci pensa jack no peccato aspettiamo aspettiamo oddio mi sono cagato sotto per un ottimo i giri sì ok ragazzi uno più uno contro alfa 54 qualcosa mi dice che non ce l'ha non ce la faccio allora aspettiamo jack io il busto ce l'ho che caso stai facendo è un pazzo comunque jack anticipo butto in mezzo per il mio mate segnalo per net dai gli open net forniti da gladiator scrivi il passaggio li prego oh grande jack scrive bel passaggio grandissimo grande qua zero a casa mannaggia e questo ecco se mi scrive nessun problema veramente muoio ma veramente jack ma jack è diventato sportivo all'improvviso chi lo sa se ne perdiamo che succede dai però io in questa lobby non c'entro un cazzo ragà c'è qua su tutti pro player non solo reggo già faccio bravo a prendere jack frutti ti bampo no mi fido di lui tanto mo fa una giocatona finta che cazzo di tiro ho fatto ma che cosa ho fatto sbagliato vediamo frutti bravo jackino e dai frutti non per i coglioni ok va bene va bene ha fatto bene andare va bene lo stesso questa qua non la prenderò mai fin da sotto busta 100 per me vai jack tutta tua non ho capito non sto capendo questo viene a bamparmi meno male che non sono andato sulla palla aspettiamo frutti bello sto anticipo del busta 100 e vado subito dietro tanto il busto ce l'ho ce l'ho ce l'ho bravo quasi ha scritto colpa mia madonna santa chicco fino verso la mia sinistra o è pinch il busto l'ha preso alfa se sei uno più non ma in teoria sei andato la puttana lui dovrebbe essere easy andato fuori andato fuori vai jackino vai jackino buttare in mezzo jackino scherzo ci pensa il king quando accettare la metto in mezzo bampo questo allo spawn e sponato l'altra parte che palle ok non mi tagliare di nuovo ma comunque veramente ragazzi ha un problema non dico con le rotazioni ma in 2v2 taglia un po tanto a prendere jack non è la prima volta che mi taglia sta partita già sfrandica tu cazzo il king di benevento è qui ma è peccato ho vinto il 50 ma che prezzo ragazzi faccio dire il king di benevento che bel tiro a fanculo a peccato peccato aspettiamo jack lascia lascia bam bel passaggio ma la mia bel passaggio grande jackino grande jackino bravo non si sa come abbia fatto frutti a non prendere questa palla io faccio finta di fare il fake bump no ragazzi non c'è nessun italiani in lobby non c'è nessun itas frutti è della danimarca mi pare al facciamo davanti francese jack mi ricordo però non c'è nessun itas mettila in mezzo ancora cazzo pensavo passassi in mezzo a fangul via andiamo dietro a fangul alfa non mi salterai così madonna 2 contro 1 2272 mmr a casa a casa aspettiamo jackino bravo jackino bravo fatti questo redirect piano ragazzi che gol incredibile ma guardate con che precisione guardate questo gol non era facile guardate guardate l'angolo ragazzi era veramente difficile questo è veramente complicato questo gol non era assolutamente facile no non prendo troppi punti se vinco perché mi mette altissimo anche quindi penso 9 vai jackino resettami sto cazzo alfa o godo allora frutti dovevi andare a fangul anticipino tattico volevo fare il bump del king ma quello si è andato dal muro bump del king per te mannaggia lascia lascia jackino ma quanto c'è isa comunque non ho boost ma perché c'è isa così tanto mannaggia ci mette in difficoltà ok ha fatto un tiro bello però mi mette ancora di più finta finta guarda qua frutti vieni qua vieni questa easy per jackino bel passaggio di jackino peccato che non ci possa andare vieni qua alfa dai piano is dove vai tu no penso mi stessero da pushare alfa da dietro invece no pinta mi ha bumpato bravo bravo jackino aspettiamo è sto cazzone allora è che tiro difficile ragazzi ma vi rendete conto che quello ho fatto ma vi rendete conto che quello ho fatto ma guardate c'è questa ragazzi di una guarda guarda era difficilissimo questo tiro è veramente una difficoltà incredibile gg per noi della partita tutti i giorni live due volte al giorno guardare queste belle lobby tutti i giorni nei link in descrizione 2017 mmr dai mi devi trovare zezonix questo è content ragazzi devo togliere l'alert content finalista regionale dell'rlcs però ci leva tanto se perdiamo che sta più basso di noi mannaggia la miseria questa cosa tiro in porta direttamente veramente veramente bravo lui mi va a prendere il busto a 100 aspettiamo nauwaf subito prima partita primo content manco il tempo di aspettava fangul io sono ancora freddissimo aspettiamo zikog di là sono entrambi arabi se non era sì entrambi arabi allora nauwaf mi viene a ripusciare io aspetto il bisogno della palazzi alz e va fangul piano ci pensa il mio compagno mi fido di lui ti prego il busto ce l'ha infatti sta giocatina bravo mettimela qua dai passamela non ci andava un'altra volta basta mi ha fatto la finta meno male va va il busto col cazzo che te lo prendi dirà ragazzi due virgili o clamorosi che non avete idea veramente dei settembrini infatti la puzza che si andrà qua ragazzi mamma mia se zonix tanta tanta roba ce l'ho pure tre amici non so manco il motivo godo anticipato piano mannaggia non ce la faccio la prima partita non ce la faccio infatti la prima partita adesso mi devo andare non competitiva perché non ce la faccio la regge panico totale 100 di boost per noi calma buttalo avanti questo pure si anticipa non problema ci sono io nauwaf non mi devi anticipare però basta 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 bellissimo bravo mate maron fatti sto flicchettino il primo saltalo il secondo va bene così ok devo anticipare adesso fatta una cagata butto semplicemente in mezzo ti prego vai tu oh no non puoi segnare finalizzami stare le cs del cazzo ok bravo vai zcog vai zcog un'altra volta se sta giocateli prima andrà male pure mo ma che cazzo e mo ci pensa il king a tirare no grande grandissimo mate grande grande mamma mia raga clamorosa sta partita veramente clamorosa ma lascia andare il mio compagno faccio solo una finta tattica bella bella ma va fa moccasort non ho boost aiuto aiuto ho 0 completamente 0 0 0 0 grande ze zonix io il boost a 100 ce l'ho anticipo prof al double mi ha anticipato malissimo ma fa moccasort dai zcog pensaci tu sta prendo a fa sta giocata 300 volte ora vi faccio vedere come si fa il dribbling beneventano 1v1 eh col cazzo non c'ho boost mannaggia bumpiamo ze zonix hai rotto le palle ok buono mi ha dovuto jumpare quindi non può stare in mezzo easy redirettino perfetto ce l'ho ancora io ce l'ho ancora non mi anticiperei mai mannaggia ho tirato una cacata non c'ho più boost mannaggia corri 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 dietro maron ok un mio mate comunque sta giocando bene bello soldo in difesa il brutto è che se vinciamo non ci danno neanche troppi punti perché loro sono più bassi bruttissima sta cosa ehi tipo penso ci darà 7 massimo 8 e se perdiamo ce l'ho a 10 11 bella lobby del cazzo e so pure forti quello è il problema bravissimo mate qua devo andare io l'alzo soltanto per evitare che loro possano partire in un contropiede quando il novit è stato esploso perfetto andiamo a prendere il boost acento il mate anticipa bravissimo na guaffo che fai lo bam cazzo piano il boost me lo fotte ma non boost mamma mia non c'ho niente proprio calmati madonna meno male non ho niente aiuto grande si anticipiamo ancora vampiamo questo bastardone il boost è mio bravo bravo una guaffa senza boost era senza boost me l'ha preso prova adesso non l'alzare maronna cosa ho rischiato 50 secondi corri dietro corri 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 non ho boost ho 2 14 15 di boost volevo abamparmi ma il king non si può abampare è impossibile anticipiamo senza boost anche qui no il boost non ce l'ho aiuto che settembrino quello che è zomato su sta palla lascia il boost io prego ok buono zezonix la tira solo alta non posso fare un cazzo però buono buono bravo zogog mamma che partite intensa questa raga e la chiudiamo bravo mate tre vostre star nutile incredibile finalista rlcs mamma mia questa è veramente la bestia pure il mate porca troia io ho paura che facciano oh cazzo pensavo faccio solo il bump per un attimo roba abampare zezonix buono così non può fare niente gg bel game raga sono molto soddisfatto tutti i giorni live due volte al giorno nei link in descrizione mi raccomando ragazzi potete vedere in diretta il king che gioca nei link in descrizione anche i social il twitch tutto 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 trovate lì bel game gg andiamo alla prossima gg ne ho fatte poche negli anni cos'è successo col mate ho chiesto di fare il turno del 23 insieme mi ha detto di sì dai su grattiamoci grattiamoci nel frattempo grattiamoci le palle che gollettino ragazzi che gollettino con la pausa finale